Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti i tesorini e benvenuti in un nuovo video oggi farò la morning routine, scusatemi della mia assenza e ho cancellato tutti i video perchè avevo pensato di non farli più poi dopo voglio ricominciare, quindi ricomincio alla grande a tutti i tesori premetto io questa colazione non la faccio tutti i giorni oggi è domenica e quindi ho fatto una colazione così pio 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 ma ce li Aspettate, giro E mi sono fatta pure i selfie E quindi Ci vediamo dopo E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti i tesorini Ciao E se volete la night routine Lasciate un bel like